La stagione calcistica 2015-2016 muove i primi passi. Il comitato regionale della FIGC ha reso noti i gironi di eccellenza e promozione, ufficializzando quindi gli immancabili ripescaggi. 6 nel massimo torneo direttantistico regionale, 13 in quello immediatamente inferiore. Il verdetto è impietoso, quanto spietato, il calcio siciliano è morto, defunto. Il gran numero di promozioni a tavolino per completare i gironi è lo specchio fedele di una situazione ormai al collasso. Con una crisi economica di portata mondiale è impensabile che si continuino a mantenere, falsando prima ancora del via, così tanti campionati calcistici. Due gironi di eccellenza da 16 squadre, la Sicilia non può permetterseli che i vertici federali se ne facciano una ragione. Così come è impensabile che per formare quattro gironi di promozione la Lega sia costretta a ripescare ben 13 società, il tutto udite udite per formare tre raggruppamenti dispari con 15 squadre ed uno addirittura con 14. Detto ciò, andiamo a vedere come è composta la nuova geografia del calcio regionale. In eccellenza ripescate Folgore Selinunte, Troina, Forza Calcio Messina, Palazzolo Camarat e Atletico Catania sono stati composti soli di due gironi divisi nel modo classico, cioè dividendo la Sicilia verticalmente. Nel raccluppamento bile messinesi, Sporting Taormina, Calcio Messina, Milazzo e Gea Virtus, Orlandina e Rocca di Caprileone si confronteranno con le catanesi, ragusane, siracusane ed ennesi. Nel campionato di promozione, per la felicità dei dirigenti che vedono così ridursi drasticamente le spese delle trasferte, è stato disegnato un girone tutto messinese, da Mistretta a Santa Teresa Riva. Sono state inserite le formazioni che hanno fatto richiesta con l'aggiunta delle ripescate Acquedolci e San Filippo del Mela, 15, come detto, le squadre inserite. Resi noti infine gli accoppiamenti, con gare di andata e ritorno della Coppa Italia, primo impegno agonistico della stagione per il campionato di eccellenza. Seguendo il concetto della vicinorietà si affronteranno Rocca e Orlandina, Milazzo e Gea Virtus, Calcio Messina e Sporting Taormina. Le gare di andata domenica 30 agosto, quella di ritorno domenica 6 settembre.